Beppe Severnini, abbiamo visto che l'ultima è che anche l'India ha sospeso tutti i voli per l'Italia, dopo Israele, Turchia, Angola, le compagnie aeree hanno tutte ridotto sensibilmente il numero di voli per il nostro paese. Salvini ha detto che da alcuni paesi è nata una guerra commerciale contro di noi. Invece Giorgia Meloni in serata, attaccato duramente il Presidente del Consiglio Conte, ha detto che siamo trattati noi italiani come degli appestati, grazie a Conte il suo bisogno di farsi vedere e di dire la propria. Sta in questi termini la vicenda o forse il sovranismo è un po' in difficoltà, nel senso che prima gli italiani capiamo che non può funzionare nel momento in cui noi abbiamo molto bisogno degli altri. Ah vabbè, il coronavirus ci ha preso molto la lettera, prima gli italiani è stato così in Europa, non c'è proprio dubbio. Comunque rispondendo seriamente alla tua domanda, perché è una domanda seria ed è un momento serio, io credo che Matteo Salvini stia comportandosi in maniera emotiva. Il 21 febbraio, se non ricordo male, era chiudiamo tutto, blendiamo i confini. Il 27 febbraio era diventato apriamo tutto, quando chiaramente è prematuro. Quindi un leader politico in questo momento non deve né fare campagna elettorale né essere emotivo. Questo vale anche per Giorgia Meloni. Io non credo che il governo in questa vicenda sia mosso male, sia mosso con decisione. Qualcuno dice, anzi, l'ho saputo anche da amici all'estero, che l'Italia forse è stata troppo trasparente. Ha fatto moltissimi tamponi, a differenza di altri paesi, e ha raccontato le cose come stavano. Ha creato le zone rosse, adesso forse ne stenderanno. Quindi, secondo me, in questi momenti, forse sono ingenuo, forse non voglio fare carriera politica, sarebbe bello vedere che così come stiamo facendo nei media, in cui cerchiamo di informare, non di spaventare, che è il nostro mestiere, così come stanno facendo i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, io sono di Crema, ho parlato stamattina con medici a Crema, a Lodi, a Pavia, a Cremona, ho amici in tutti questi ospedali, e sono veramente fantastici. Tra l'altro, ricordiamocene, quando l'emergenza è finita, perché adesso, in questi giorni difficili, è troppo facile fargli complimenti. Queste categorie devono sentire di avere la nostra stima e la nostra ammirazione. Se salta la sanità pubblica, è un problema. Allora, chiudo dicendo che, in questo momento, ecco, anche la politica dovrebbe, secondo me, magari, ripeto, sono ingenuo, fare la stessa cosa. Sentire, siamo degli appestati per colpa del Presidente del Consiglio Conte, perché tu sei il leader dell'opposizione, mi sembra inopportuno, e, anzi, mi verrebbe un aggettivo più antipatico, mi fermo inopportuno. Sei d'accordo?